E' fissata per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in Casarezzo, una seduta facoltativa come quella in programma nella giornata di domenica. L'accordo tra Sto Calciatori e Lega Pro di fatto vieta qualsiasi tipo di attività ufficiale non fino a lunedì. L'Arezzo metterà a disposizione dei giocatori, la maggior parte di quelli della prima squadra, lo staff tecnico per due allenamenti facoltativi ma che di fatto segneranno la ripresa ufficiale dell'attività. In chiave mercato non si sblocca ancora il trasferimento in Amaranto di Cenetti, centrocampista del Bassano. La società veneta vorrebbe un conguaglio economico per dare il via libera all'operazione. Secondo alcune indiscrezioni, i dirigenti delle due società si metteranno presto attorno a un tavolo per stabilire gli ultimi dettagli. A quel punto l'Arezzo dovrà per forza di cose liberare un posto nella lista dei 16 over che al momento è al completo. A tal proposito vanno ricordati gli ammincamenti di alcuni club di Serie B come Provercelli e Virtus Entella per Luciani, così come l'interesse di altre società percorrà di cui contratto scadrà a giugno anche se l'Arezzo vanta un'opzione per il rinnovo. Le sirene di mercato ammaliano anche Young e Polidori che difficilmente si muoveranno da Rezzo. Per entrambi serve l'ok del club Amaranto per dare il via libera ad eventuali trasferimenti a metà stagione. Si raffredda nel frattempo la pista che porta foglia al Perugia visto che il club Umbro è interessato a Scozzarella. Per quanto riguarda i movimenti in entrata ormai ha sodato l'interesse dell'Arezzo per il terzino destro del Torino Lorenzo Carissoni attualmente in prestito al Trapani. Si tratta di un under che andrebbe a dare manforte a Luciani in un ruolo dove il club Amaranto ha come alternativa per adesso il giovane Ba.